evento eccezionale domani sciale punzari sarà al romix 2016 e sì sarò anche io presente al romix 2016 ho fatto il tutto per tutto per venire a romix quindi quindi spero che verrete in tanti metto questo video molto molto veloce metto questo video appunto a quest'ora per appunto vedere quante persone verranno a romix dei miei iscritti quindi nei commenti scrivetemi se oppure contattatemi su facebook se verrete al romix fatemelo sapere se verrete a romix con un commento con un bel like quindi domani sarò a romix sarò tutta una giornata da napoli a roma poi roma napoli farà un viaggio spettacolare sarò con zel cremo quindi vi aspetto in tanti e ci vediamo domani a romix bella